Celebrazione del decimo anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio, firmata nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio proprio il 20 ottobre del 2000, su iniziativa del Consiglio d'Europa. Un patto storico per promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi. La sfida, detto l'assessore regionale all'urbanistica Anna Marson, è quella di saper rinnovare senza distruggere, inserendo il paesaggio fra gli indicatori per la valutazione di impatto ambientale. Una notizia di calcio.